Hanno venguto a 80 euro ognuno, immaginate, in due ore hanno venguto, quasi quasi calcolano che almeno di un anno se seguo così e pavano l'ingaggio di cacà ed è diventata una cosa proprio da matti troppo confusione. Ah no, dire che la gente è troppo profonda, insomma, il problema è cacare, anche lì, stanno dietro a cacare, a tutti siate cacare, da quell'altro vengono ancora al posto mene, lì, al palazzo lì, lo vedete poi, lo vedete poi in il russaccio. Insomma, è possibile che la gente, invece di spendere l'emozia, di vedere il problema della mancheria, eccetera, 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 riempiono 80.000 persone, vanno allo stadio per vedere uno stronto di quelli, ma allora da matti, ma su quantini proprio stronti, mi sa che c'è un trucco, di risolvere il segno e il 5 a 3. Allora, buona sera tutti, Yankee Vittor 5, Alfa Papa Francia, Llevedo Bravo, Yankee Tango, Yankee Yankee 1, Alfa Bravo Bravo con la buonanera. Un cordial saluto a tutti, un costo a traccio, questo non è un problema, si entendo abbastanza bene, a tutti. Eh, vabbè, divido il cambio, Antonio, lo distribuisce, 5 Alfa Papa Francia, 1 Alfa Bravo Bravo. Eh, no, il cambio, io l'ho passato, ah, che veloce, che sei mai, a me stai toccando. Vabbè, toccando, dove stai? Anche anche un Alfa, bravo, bravo, lleve due, bravo, Yankee Tango, eh? E' un piacere di riascoltarti, come puoi vedere, ho da poco finito di aggiustare l'equipo, non erano i transistori finali, sai, purtroppo non erano i finali, ma erano i transistori e gli driver, 25.09.